E' finito il turno di lavoro, i dipendenti dell'allovato gas di strada casale si ritrovano tutti in una sala concessa dal parroco a qualche decina di metri poco lontano dall'azienda. Ieri c'è stato un importante incontro al Mise chiesto dai sindacati per cercare di trovare un tavolo di trattativa più ampio. Oggi si ritrovano per discutere l'esito della riunione romana. Il Mise ha chiesto qualcosa che noi chiedevamo da tempo, cioè una discussione di gruppo. L'azienda sta tenendo separate le vicende di Vicenza e di Reggio Emilia. La partita è dunque aperta e con il governo che vuole fare la sua parte guardando all'intero settore. L'Ovato ha delle manifestazioni di interesse che stanno emergendo in queste ore da parte di altre aziende. Ciò significa che è un'azienda che va bene, che ha sicuramente delle difficoltà come tutto il gruppo, ma come tutto il settore. Per questo il governo è in campo. L'unica a rimanere sulle sue posizioni è la proprietà che non ha mostrato intenzione di ritirare la procedura di immobilità per i 67 lavoratori dell'Ovato. Per la prossima settimana è previsto un nuovo incontro e il sindacato lancia una richiesta, convinto che... è più una vicenda finanziaria che una vicenda di produzione industriale. Da questo punto di vista noi chiediamo anche al Mise che siano presenti anche le banche in questa vertenza, perché se sono le banche il problema devono esserci anche loro.